Dalle fiabe dei fratelli Grimm, i sei che si fan strada per il mondo, voce di Lorenzo Pieri. C'era una volta un uomo esperto d'ogni arte, fece il soldato e si comportò da valoroso, ma finita la guerra fu congedato ed ebbe tre soldi come viatico. Aspetta un po', disse, questa non mi va giù, se trovo gli uomini adatti, il re dovrà darmi i tesori di tutto il paese. Pieno d'ira andò nel bosco e vide un uomo che aveva sradicato sei alberi come fossero spighe di grano. Gli disse, vuoi entrare al mio servizio e seguirmi? Sì, rispose quello, ma prima voglio portare a mia madre quel fastelletto di legna. Con un albero legò gli altri cinque e preso il fastelletto in spalla se ne andò. Poi tornò e seguì il suo padrone che disse, noi due dovremmo farci strada in tutto il mondo. Dopo un po' trovarono un cacciatore che in ginocchio puntava il fucile. Il padrone gli disse, dove miri cacciatore? Quello rispose, a due miglia da qui c'è una mosca sul ramo di una quercia. Voglio cavarle l'occhio sinistro. Oh, vieni con me, disse l'uomo. Noi tre insieme dovremmo farci strada in tutto il mondo. Il cacciatore andò subito con lui e giunsero a sette mulini, le cui ali giravano precipitosamente, benché non ci fosse vento e non si muovesse neanche una fogliolina. Disse il padrone, non so cosa faccia girare i mulini, non c'è il più piccolo soffio d'aria. E proseguì coi servi. E dopo due miglia videro un uomo seduto su un albero, che si teneva chiusa una narice e soffiava con l'altra. Che fai lassù di grazia? domandò il padrone. Quello rispose, a due miglia di qui ci son sette mulini a vento, vedete io soffio perché girino. Oh, vieni con me, disse l'uomo. Noi quattro insieme dovremmo farci strada in tutto il mondo. E quello che soffiava scese e andò con loro. E dopo un po' videro uno che se ne stava su una gamba sola. Aveva sfibbiato l'altra e se l'era messa accanto. Allora disse il padrone, vuoi star più comodo per riposare? Sono un corridore, rispose quello, e per non correre troppo in fretta mi sono sfibbiato una gamba. Se corro con tutte e due, son più svelto dell'uccello in volo. Oh, vieni con me, noi cinque insieme dovremmo farci strada in tutto il mondo. Egli andò con loro e dopo un po' incontrarono un tale con un cappellino sulle ventitré che gli copriva tutto l'orecchio. Il padrone gli disse, che bellino, non portare quel cappello sulle ventitré, sembri un buffone. Non posso, rispose l'altro, se lo raddrizzo, viene un gran freddo e gli uccelli all'aria aperta gelano e cadono morti a terra. Oh, vieni con me, disse il padrone. Insieme noi dovremmo farci strada in tutto il mondo. In sei arrivarono in una città dove il re aveva reso noto che avrebbe sposato sua figlia, che avesse gareggiato con lei nella corsa e l'avesse vinta, ma se perdeva doveva lasciarci la testa. L'uomo gli si presentò e disse, però farò correre il mio servo per me. Il re rispose, allora devi impegnare anche la sua vita, così che le vostre due teste rispondano della vittoria. Concluso l'accordo, l'uomo affibbiò al corridore l'altra gamba e gli disse, adesso svelto, aiutami, che si possa vincere. Era stabilito che sarebbe vincitore chi per primo portasse l'acqua da una lontana sorgente. Il corridore ebbe una brocca e così la principessa. E cominciarono a correre nello stesso momento, ma in un attimo, mentre la principessa aveva percorso un breve tratto di strada, più nessuno riusciva a scorgere il corridore passato come una folata di vento. Subito egli giunse alla fontana, riempì la brocca e tornò indietro. Ma a metà strada, vinto dalla stanchezza, depose la brocca, si sdraiò e si addormentò. Si era preso per cuscino un teschio di cavallo che era là per terra, per star sul duro e svegliarsi presto. Intanto la principessa, che correva bene anche lei, ma come una persona comune, era arrivata alla fonte e si affrettava sulla via del ritorno con la sua brocca piena d'acqua. E quando vide il corridore che dormiva lungo disteso, disse tutta contenta, «Il nemico è nelle mie mani!» Gli vuotò la brocca e corse via. E tutto era perduto, ma per fortuna il cacciatore, con quegli occhi acuti, vide ogni cosa dall'alto del castello e disse, «La principessa non deve spuntarla!» Caricò il fucile e sparò con tanta abilità, che all'altro portò via il teschio di sotto la testa, senza fargli alcun male. Il corridore si svegliò, saltò in piedi, e vide la brocca vuota e la principessa già molto lontana. Ma non si perse d'animo. Tornò di corsa alla fonte, riattinse acqua, e a casa arrivò ancora dieci minuti prima della principessa. «Vedete?» disse. «Soltanto adesso ha dobrato le gambe. Prima non si poteva proprio dirla una corsa». Ma il re era mortificato, e ancor più sua figlia, all'idea di essere portata via da un soldato in congedo. Si consigliarono insieme sul modo di sbarazzarsi di lui e di tutti i suoi compagni. Il re le disse «Ho trovato il mezzo, non aver paura che non torneranno più». E disse loro «Adesso dovete far baldoria insieme, mangiare e bere». E li condusse in una stanza che aveva il pavimento di ferro, le porte di ferro e le finestre chiuse da sbarre di ferro. Nella stanza c'era una tavola coperta di ogni ben di Dio, e il re disse «Entrate e godetevela». E quando furono dentro, fece sprangare la porta. Poi mandò a chiamare il cuoco, e gli ordinò di accendere una gran fiamma sotto la stanza, finché il ferro diventasse rovente. Il cuoco obbedì, e i sei a tavola cominciarono a sentire un gran caldo, e pensarono fosse effetto del pranzo. Ma il caldo aumentava sempre più, e quando vollero uscire, trovarono porta e finestre sbarrate. Allora si accorsero che il re tramava il loro danno, e voleva soffocarli. «Ma non ci riuscirà», disse quello col cappelluccio, «farò venire un tal freddo che il fuoco dovrà vergognarsi e andarsi a nascondere». Raddrizzò il suo cappelluccio, e subito venne un tal freddo, che ogni calore scomparve, e i cibi cominciarono a gelare nei piatti. Qualche ora dopo, il re, credendo che il calore li avesse uccisi, fece aprir la porta, e andò a veder di persona. Ma quando la porta si aprì, se li trovò davanti tutti e sei, freschi e sani, e dissero che erano ben contenti di poter uscire a scaldarsi, perché nella stanza, con quel gran freddo, si congelavano i cibi sui piatti. Allora, pieno di rabbia, il re andò dal cuoco, e lo sgridò, domandandogli perché non avesse fatto quel che gli era stato ordinato. Ma il cuoco rispose, la fiamma non manca, guardate voi stesso. E il re vide un gran fuoco ardere sotto la stanza di ferro, e si accorse che così non l'avrebbe spuntata con quei sei. Pensò di nuovo come liberarsi di quegli ospiti sgraditi, fece chiamare il padrone, e gli disse, se ci tieni all'oro e rinunci ai tuoi diritti su mia figlia, te ne darò quanto vuoi. Oh sì, maestà, rispose quello, datemene quanto può portare il mio servo, e rinuncio a vostra figlia. Il re fu soddisfatto, e quello proseguì, verrò a prenderlo fra quindici giorni. Poi mandò a chiamare tutti i sarti del regno, che per quindici giorni dovettero star seduti a cucire un sacco. E quando il sacco fu pronto, quel forzuto che sradicava gli alberi dovette metterselo sulle spalle e accompagnare il padrone dal re. Disse il re, che Gagliardo è quello che ha sulla schiena una balla di tela grossa come una casa. E pensò spaventato, quant'oro trascinerà con sé. Poi mandò a prendere una tonnellata d'oro, che sedici dei suoi uomini più forti dovettero trascinare. Ma l'altro la sollevò con una mano, la mise nel sacco e disse, «Perché non ne portate subito di più? Copre appena il fondo!» E a poco per volta il re mandò a prendere tutto il suo tesoro, e l'uomo lo cacciò nel sacco, e il sacco non era pieno neanche a metà. «Portatene ancora!» gridò, «Queste due briciole non lo riempiono!» Dovettero riunire in tutto il regno altri sette mila carri pieni d'oro, e quello li cacciò nel sacco insieme coi buoi che vi erano attaccati. «Non guarderò tanto per il sottile!» disse, «e prenderò quel che capita pur di riempire il sacco!» Quando tutto fu dentro, ce ne stava ancora, ma egli disse, «Facciamola finita! Si può legare un sacco anche se non è ancora pieno!» Poi se lo caricò sulla schiena, e se ne andò con i suoi compagni. Quando il re vide quell'uomo portar via da solo la ricchezza di tutto il paese, si infuriò e diede ordine alla cavalleria di montare in sella per dar la caccia a quei sei e riprendere il sacco. In un batter d'occhio, due reggimenti li raggiunsero e gridarono, «Siete prigionieri! Giù quel sacco d'oro! O vi faremo a pezzi!» «Cosa dite?» esclamò quello che soffiava. «Noi prigionieri! Prima ballerete per aria tutti quanti!» Si chiuse una narice e soffiò con l'altra contro i due reggimenti che si dispersero e se ne volarono lontano per l'azzurro, uno di qua, l'altro di là. Un furiere implorò grazia dicendo che aveva nove ferite, era un valoroso e non meritava quell'oltraggio. Allora l'uomo soffiò un po' meno forte così che il furiere ridiscese sano e salvo. Poi gli disse «Adesso vada al re e digli di mandare dell'altra cavalleria, soffierei tutti per aria!» All'udirla nuova il re disse «Lasciateli andare, hanno il diavolo in corpo!» I sei portarono a casa tutta quella ricchezza, se la spartirono e vissero felici fino alla morte.